Quali saranno le sue linee guida? Come cambierà la difesa italiana e la politica comune europea in questo senso? La difesa italiana si sta articolando intorno alla modificazione strutturale del proprio sistema di difesa reso necessario non solo dalle contingenze economiche ma anche dalla necessità di essere più efficienti quindi di investire di più e di avere maggiori spese di esercizio. Questo si inserisce all'interno però di una visione politica e la visione politica è quella di una politica europea di difesa una politica europea di difesa che è la giustificazione del progetto politico che chiamiamo Europa Unita.